Il tempo stringe per la nomina del nuovo Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Oggi c'è questo importante incontro. Si getteranno le basi per trovare un accordo? Sì, io innanzitutto voglio ringraziare il Presidente Angelucci che responsabilmente ha voluto fare questo passo. Ma il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che comunque è stato fatto tanto lavoro e il lavoro prosegue con normalità, anche perché gli organi sono tutti in funzione e quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane continueremo normalmente tutte le attività. Sicuramente ci sarà da decidere all'interno del Consiglio Camerale con i tempi che occorranno, si spera brevi, quantomeno le associazioni di categoria chiedono questo. Si tratterà di eleggere anche il nuovo Presidente. Le varie associazioni hanno proposto a loro volta dei nomi che voi vaglierete? Ovviamente io non posso dire nulla su questo. Fa parte della normale dialettica che si anima all'interno del Consiglio in questi casi. Tra l'altro credo che sia una cosa anche abbastanza appunto normale. Sia sull'elezione di Becci, sia sull'elezione di Angelucci siamo andati avanti con un accordo tra le associazioni che comunque è in piedi e continuerà a essere in piedi. Adesso si tratterà di decidere tutti quanti insieme attraverso quell'accordo un nome che vada bene a tutti. Potrebbe essere anche lei il nuovo Presidente? Assolutamente no, lo escludo. Grazie. 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 Grazie.